Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero ed oggi ti voglio parlare di erbe depurative perché andiamo incontro alla bella stagione e magari anche tu vorrai depurare il tuo organismo. La prima erba di cui ti parlo è il prezzemolo, che è tra le erbe più utilizzate in cucina. Ha un'azione diuretica e drenante, è utile per eliminare i liquidi in eccesso, ma non solo, contribuisce anche a mantenere i reni liberi dalle impurità e a proteggere il tratto urinario dalle infezioni. Quindi ti consiglio di utilizzarla davvero spesso. Il timo è un'altra ottima erba depurativa, utilizzata davvero tanto in cucina per aromatizzare i piatti. Ha proprietà antisettiche, ha effetti benefici sul tratto respiratorio ed è anche un ottimo rimedio in caso di gonfiore addominale. Un'altra erba è l'alloro, che grazie alle sue foglie molto profumate e è ampiamente usata nella nostra cucina mediterranea. In realtà le sue foglie sono molto ricche di oli essenziali che vanno a favorire proprio la diuresi. Quindi è anche quest'altra ottima proprietà, oltre ad essere davvero tanto aromatica. Quindi ti consiglio di seguire un'alimentazione equilibrata, fare tanta attività fisica, bere almeno due litri d'acqua al giorno, oppure puoi preparare dei decotti con queste erbe aromatiche di cui ti ho parlato adesso. Se hai trovato questo video interessante, ti invito a condividerlo con i tuoi amici. Ciao e a presto!